Il pubblicitario è sempre puntuale a dare per il gizzo del bisogno del tattere vedendo tanto si apre lo scuttatore, si apre lo pubblicitario, a tutto un altro sul boschezzo, a barattare, con due strinte e male. Questo vedendo iniziare a leggere la gente mela, non ve l'ha provata a telefonare, non ve l'ha provata a telefonare, perché si apre lo pubblicitario, non ve l'ha provata a telefonare, non ve l'ha provata a telefonare, e poi ho sentito a telefonare da Leo, cadiamo il chirurgo e non si vuole fare male nulla, e vedete la Leo subito, mi hanno detto, eh, ho provato tante volte, si, ma telefonare, che non ve lo pubblicitario, su telefonare si preoccupano, non ve l'ha provata a telefonare, che hanno su un campanone, su una moltezza, con il chirurgo e finisce il cantone, finisce il cantone, e poi non ve l'ha provata a telefonare, ma non ve l'ha provata a telefonare, non ve l'ha provata a telefonare, e gli spiega a tutti, e alla gente mi diceva, eita è bella la professione, questa fortuna santa, eh, questa è una fortuna, non questa è una cosa fatta carica. Bene, mi hanno trovato il gusto, come allora dai nanti, Maria, a leggere la carta e la poesia, e mi hanno detto. Certo, sono qui per questo. Eh, è bello. Bene, andiamo avanti? Sì, sì. Perfetto. Allora, leggerò questa volta Zappuri Kururadi. Eh, Zappuri Kururadi. Eh, esattamente. Allora. Zappuri Kururadi. Canto Zappuri Kururadi. Canto Zappuri Kururadi. Ah, giù dovuto arrangià, in vita vita. Si candi sempre di gururalli, con tutti i rigurori dell'arcobaleno. Erani, sempre infusi di ragrime, che ne siano da drenta rugori. So gugumenti un pabbiro a suoi venti, ando a rigare un sorriso, invece, a cia pura vida, e ramolli, che si ingruvigliegiani un pare. Pagesso, dico, non so che abbastanza bovara, da da un carigno aga e soffrende. Penso, quisiera cosa aiuta, pa fare di sì ancora ad andananzi. Iusto? Bene, questa bella poesia, Maria. Sinceramente, vedendo tanto, questa bella poesia. Annamoratamente, come ti vedendo. Alle gragono con Alfredo Ligio, sempre con tu, Alice. E mi pare piacere questa poesia, stuola su bellissima, e vedendo tanto. Grazie Alfredo. Eh beh, certo. Capite su cosa, se vedendo, te andate dai nanti. Qualche volta, non se ne pagano, fino al suo canto santo, uno mi andavano a chiamare, paghemi questa cantona, Questa cantona, quando comincia il suo canto del re, non che potrebbero entrare a sacrosseccarla subito. Su ditto, lo legare, venivano paghemi sul re, poi paghemi sul muto, e su cosa bella. Certo, è giusto, è giusto, è giusto. che sia così. E poi ci saranno anche i nostri radioascoltatori, i nostri. Dico io i nostri, perché ormai faccio parte della famiglia, mi ci sono messa anche io nella mischia. ci telefoneranno a sapere. Maria, ma perché ti darò una cosiddetta? Cosa dici? Appena appena, scusa, ma appena appena. Ma guarda, se mi stanno in radio. Sì, sì, ho trasmesso in radio, io ho tanti anni. In questo momento, qualche cosiddetta avevo. Sì, tanti anni, e molti radioascoltatori che mi ascoltavano, penso che saranno lì, che mi vedranno. Il nome non era questo, era un altro nome che usavo. Comunque, sono sempre io. E beh, certo. Devo stare sempre all'allegra coro, invece. Ecco. Non ho cambiato mai. No, avevo una sigla mia, capito? E quel nome da trasmissione, perché si usavano, di avere un nome, un pseudonimo. Eh, eh. Lo facevano tutti, e lo facevano anch'io. E beh, Devo in assoldisco scappobatto, sempre all'allegra coro. Certo. Sempre. E cazzo a Dio su. E ho fatto delle belle trasmissioni, devo essere sincera, andavo anche con la neve, quindi, e beh. Ho fatto dei sacrifici, perché allora quello che si faceva non ci pagavano, era tutto per hobby. E quindi, tutte quelle ore le regalavi a loro, e loro erano molto contenti, e mi gratificavano. E beh. Sono scurtatore, sono fatti orgati, abitendo tanto, andiamo salto delante, ma io mi leggo su una teraposia. Certo. Dedicato a tutto, sono scurtatore, a mano su, è minore. È minore. All'egra coro, via. Chiriori. Ah. A voi, mi illudo che il tempo non passa mai, invece è sempre currendi in tutti i rigantunati di rumegori. La senti, che riori di durori, ma appena si ne scedda il profumo di viola e arelli, tanto il rumegore mio, si ne scedda, pa fa, che riori d'amori. All'eterno. Eh, Gaesta. Eh, Gaesta è Gaista, da. Sa cosa sia? Non ha le no, biscotti che fa questa moda. Certo. E non è facile, questa moda, che le biscotti da pagare, comprendere. è una, uno è poeta, fin di solumito, però fin di donare, abitare in solumito, ma fin di donare, Gianna Calvone, che non sa mancare. Bravissimo. Fa che ha solo una moda e basta. È giusto, ognuno ha il suo hobby. Eh. Hobby, chiamiamolo anche lavoro, a volte, giusto? Perché deve campare anche. È poco capirene pure. Io da questo non campo, certamente. Questo è un hobby che sto portando avanti, poi, quel che sarà, sarà. Io mi affido, a voi, a tutti. Chieda da Dainanti, certo. Certo, io mi faccio conoscere, poi si vedrà. E io, sono tutti, Maria. Bene, andiamo a Dainanti, sempre allegro con Alfredo Leggio, la gioia notte in diretta, otto e mese a te che, e poi questa, mesanotte per questa repica, carico una che, la fine televisione, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, brava, tante sommatissime, le aveva fuori sposto. Ma perché, non so che, non la dico, una serata, in una iga, che le ha dei sinistili, e su un minuto, sul tasso barco, mi, allegro la cosa, esti in televisione, desti nove, e a fare una basattuata, due, che mi sono diviso, uno pagano, uno pagano, uno pagano in televisione, mi occupo di due minuti. di due minuti. Certo. Proponato, sul cosa, che mi rendo tanto, sinceramente, la sa gente, a rispiegare, sa cosa, come è testa fatta. E sul cosa, schia, che non è una cosa, è vero, se non niente, è vero, e sta bene, la favola. E perché ti seguono, sei molto seguito, certo. come scrivere Maria, e ti chiedono, un'altra cosa, Maria, questa poesia, senti su terzina, su ottava, su... Ma sono libere così, no? Non ho fatto niente di questo qua. No, non ho fatto niente di questo qua. Sì, sì, sì. L'hai visto, no? Certo. C'è questa poesia, questa ottava, su terzina, su... Ma io non ho badato a queste cose. Esatto, bravo. Sono andata in ruota libera. È libera. È libera. Chi l'accetta, che mi vuole, sono così. Bravo, Maria. Io sono come uno specchio. Esatto. Trasparente. Deve la salgare. Mi temo su un'altra, Maria. Mi temi lato. Va bene, certo che sì. Ehi. Allegra coro, via. Allora. Questa è la... Ravuntana di Ravedda. A Giubitu, i Ravuntana di Ravedda, a Manzanieri, quando ancora i risogni sono ingruvigliati. Pabì. Leva, grittallina, frecca, frecca. Ma i ramenti, ti ne scedda, cose ormai passate da un bel di tempo. Passaurà, in questo momento, l'urransego di Ravedda. Eppure, usaori dozzi, già passato. Bigo ancora, da Giubitu, da Ghissavuntana, ma fa ammintà la fortuna e la ricchezza di un tempo che non torna più. A me, che non torna più. Eh, che avuto se l'hai fatta a Gai, per l'altro, no? E mi scudo che non è. Eh, ma no. Sono tempo scolato, non che torna più. No, no. Eh, a secco terra, per l'altro. Rimane qua dentro, dentro il cuore. Si, ma, a base a me, a secco terra, a secco terra, che non torna mai. E' in teca renale. Sa cosa che scolava? Non torna mai. No, no. Eh, a secco terra, che non torna mai. Torna mai. a base a teca renale, cultura, eh no. E ti devo spiegare le due. Non hai bisogno di mischiare due. Il tempo è già passato. Il tempo è passato, non torna più quello che è passato. Eh, esatto, non torna mai. Ci godiamo quello presente. Esatto. Tu, su questo e su questo. Certo. E ti chiedeva un'altra cosiddetta. Ti ho portato una messa. Sì. L'altra volta, che se no, vabbè mai si fa, che l'ho preso pure. Fia, in una via via, nonna, non comando, fa l'indemnata della macchina. Perché questo visiglio? Una creatura? Maschetto figlio, non femminente. Nonna, fa l'indemnata della mamma, imbruzzonata in terra. Ehi! Il suo coso, niente. Niente meno. E questa signora, non la conoschia, ma il suo cosiddetto, non mi metta il pastiglio. Lui vedeva, colate, lasciate andare. Invece la mamma. Però la fa nascere la mamma. Signora, non la conosco, però, guardi, mi fa dire la parola al bambino. Devo andare a questo figlio di nato. Alzatene da terra e fai appresso con mamma, se non mi tolgo la cintola. Ti do una sussa che non finisce più. Il suo cosiddetto si nevesa, appresso con la mamma. E la mamma mi ha ringraziato. Niente meno. Eh, sì, ma la mamma deve intervenire. Non si lascia la ragazza. Che ti gusto? Che ti gusto? Che ti gusto? No. Eh, lo so. Le mamme devono avere ancora il polso un po' più duro. Brava. Brava. Perché non tutto si può avere nella vita. Esatto. Se li fanno crescere così, li faranno crescere bene. Cioè, non dando tutto quello che loro chiedono. Non è possibile. Certo. Se anche hanno le possibilità, pure avendo le possibilità, bisogna insegnare al bambino che non gli do tutto. Esatto. E' un'altra, una pagata, e giochia sul telefonino, una crea nuva. E' il suo babbo la parla. E' bello parlare sul telefonino. E' anche lui in questo telefonino. E' il suo conoscimento. E' anche per rintracciarlo. Rintracciato per istrua. Non sa che ne ha due. Che forte. Per rintracciarlo. Gia si sentono importanti da piccolino, a dover rintracciare. E, e, e. E le torno. Degli le voti. E non mi fanno tre piatti, ragazzi. E le torno. E per l'altro, è di dare il mio, c'è tutto il tutto, però voglio questo, voglio cosa.... no! Voglio, non esiste. Tutto a suo tempo bisogna dare. Brava. uno se lo deve guadagnare. Brava, brava. A parlando di questo, noi ci siamo giochendo, siamo tenuti la possibilità giusta. E per l'altro, san mamma, se il suo babbo piano piano, che si ritrovano tutto lo scontento a scrivere non va bene, bene Maria è verissimo, parole sante eh sì, bene Maria in questo momento vamo sul scossidore pubblicitario allegra cosa